Tra i commercianti di Via Cavour sta montando in un crescendo rossiniano un sentimento di preoccupazione e apprensione per il futuro economico e di stabilità delle proprie aziende. Il tutto nasce da una recente manifestata volontà dell'amministrazione Seri di riqualificare urbanisticamente anche questa parte della città, che comprende oltre che Via Cavour anche Piazza Costanzi e l'area dell'ex distributore Agip in Viale Gramsci. L'ipotesi che sta serpeggiando in queste ore, in via del tutto teorica al momento, dato che non c'è nulla di scritto né alcun atto formale di questa giunta, ma solo una delibera del 2009 delle Raguzzi, di una zona AZTL fa aumentare la sollevazione popolare delle 30 e più attività commerciali che si affacciano sulla via. Attività trentennali tramandate anche di generazione in generazione o di recente insediamento che siano, tutte hanno un solo obiettivo, mantenere uno status quo che si basa sul passaggio e sulla possibilità che i clienti hanno di accedervi con l'automobile. Diversamente con un'ipotetica ZTL intravedono e temono un calo sostanziale dei propri introiti, mettendo a rischio così le economie aziendali e familiari di chi ha investito in questo angolo di città. Siamo molto preoccupati in quanto la ZTL porterebbe solo dei problemi, in quanto comunque sia le macchine continuerebbero a passare, i fornitori continuerebbero a passare, i residenti lo stesso, non potrebbero passare, comunque sia chi porta del lavoro a noi commercianti. Quello che vi preoccupa maggiormente è che questa strada diventi una strada di servizio, un po' morta, i clienti non vi vengono a trovare. Solitamente infatti la ZTL dove si guarda un po' in giro via Nolfi, via Garibaldi, poi sono strade che sono diventate morte al commercio, quindi via Cavour diventerebbe così, anche perché è una zona dove comunque sia c'è il passaggio veloce. Siamo molto preoccupati perché ne va delle nostre attività, quant'altro visto che il passaggio delle macchine è utile a tutti, quindi toglierci praticamente la clientela perché andando a fare la ZTL si toglierà solo la clientela e non il passaggio delle macchine, quindi non si risolverà assolutamente il problema del traffico con la ZTL, quindi siamo molto molto preoccupati perché ne va delle nostre famiglie, dei dipendenti, di tutti. Quanto è freddo, voglio prendere un caffè, non vieni sicuramente al Barberto perché non puoi arrivarsi con la macchina, vai in un altro bar. Io cosa faccio? Chiudo le 8? Dovrei stare aperto 24 ore al giorno per cercare di trarre avanti, perché le utenze ci sono, i contributi bisogna pagarli, le tasse ci sono e compagnia bella, quindi se c'è una miglioria da parte del comune io vorrei che fosse anche per me la miglioria, perché se a me mi danneggia non va bene. Chiudendo la via e non avendo più il passaggio delle auto, questo porta a un grosso danno economico, soprattutto per gli esercenti che sono qui nella via. E penso anche che chi ha investito in un'attività in via Cavour l'abbia proprio investita proprio per il fatto che c'è questo passaggio di automobili. Via Cavour è una strada di passaggio, non è una strada di passeggio e tale deve rimanere, perché molte attività vivono su questo, cioè io quando vendo una cosa ingombrante, pesante, vengono e caricano, quello sarebbe perso. La ZDL è quanto di peggio si possa fare una via, cioè fai pagare per entrare nella propria via. Allora al limite parliamo negli anni di una riqualificazione totale della via, ma negli anni, non in due mesi, non in sei mesi. Se questo serve per riqualificare il centro, per far rivivere il centro, diciamo che potranno riqualificare la strada, riqualificare l'aspetto esteriore, però penso che ci mangiamo tutti molto poco con l'aspetto esteriore. Penso che una riqualificazione del centro vuol dire far vivere il centro, vuol dire farlo lavorare, far muovere il danaro. Non è di sicuro questo il modo.